Mentre uno dei quattro metteva a segno il colpo, i complici, telefonino in mano, riprendevano le scene con l'obiettivo di condividere lo spettacolo con altri amici in chat per poi commentare le azioni criminose vantandosi. E' così che finiscono però in manette i quattro ladri vanesi. In queste ore i carabinieri della stazione Vi Santa Rosa, supportati nella fase esecutiva dai colleghi della Compagnia di Lecce, Campi Salentina e Brindisi, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica. Secondo l'accusa, gli investigatori avrebbero chiuso il cerchio sulla banda in azione nei mesi scorsi tra Lecce e Brindisi e che avrebbe messo a segno cinque rapine e due estorsioni ai danni di cittadini che a bordo delle proprie autovetture e in attesa di incontri occasionali venivano pedinati, seguiti e obbligati a fermarsi. Sotto minaccia venivano costretti a consegnare denaro contante, in alcuni casi prelevandolo anche dal più vicino sportello Bancomat. Delle performance andavano evidentemente così fieri da pavoneggiarsi in chat con gli amici. Attraverso un'attività info-investigativa condotta dai militari, suffragata da alcune preziose testimonianze, è stato possibile così ricostruire le varie dinamiche e quindi individuare i presunti responsabili. Al termine delle operazioni di polizia i quattro sono stati accompagnati in carcere. Nell'analisi dei dispositivi informatici i carabinieri hanno rinvenuto, in un caso anche materiale pedopornografico.